Benvenuti in questo nuovo video di WASD Gaming Io sono Pazzo e siamo in compagnia di Mike e Terence Siamo qui con Rainbow Six Questo gioco strategico Però non me lo ricordavo così graficamente di Merlec Io da un po' che non ci gioco più Anzi, non ci giocavo più Scusa Perché ero in vacanze In vacanze, in vacanze Non so manco più parlare stasera, va bene così va Vacanze, io non direi vacanze Lavori forzati in campagna No, forzati no perché alla fine ero volontario Vabbè la trappola sotto la finestra Perché ho sentito uno scudo Ma un momento, fai mi vedere dalle videocamere No, sì 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 sì, da là Da dove? E uno è andato Uno sotto, uno sotto Perfetto Blackbird Fa molto scomodo su questa sedia Due braccia Vado un po' a scatti, perché vado un po' a scatti? Ho bloccato un drone e non so da dove Ma c'è un 90 fotogrammi al secondo e vado a scatti Ma qua c'è una finestra Ma qua c'è un po' a scatti Non so C'è un po' a scatti Niente Non so Un po' a scatti Un po' a scatti Un po' a scatti Un po' a scatti sono vari personaggi adesso noi stiamo facendo i difensori siamo i terroristi mentre gli altri sono gli attaccanti c'è una vasta scelta di armi e ogni personaggio ha un oggetto diverso ecco questo sono due abilità speciale mancano ma non manca quello che era giù e l'altro non so dov'è madonna gli stavo sparando a questo guardiamo la visuale di teres mentre voleva affiocinare qualcuno sono molto famosa per i miei team kill sì perché in questo gioco oltre ad uccidere gli avversari puoi uccidere anche gli amici quindi conviene fare attenzione l'altro non so dov'è ok e uno è andato 1-0 per noi ottimo ora speriamo di andare così bene anche in attacco io in attacco mi prendo il fiuz mi piace il fiuz col mitraglione devo fare un attimo una cosa perché io prendo lo sledge e lo sledge come abilità speciale al martellone abilità al soggetto che il martellone può distruggere muri porte il fiuz può piazzare granate a grappolo che può entrare attraverso pareti finestre sparare granate a frammentazione il termite può distruggere anche barricate di ferro sotto 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 e poi infine abbiamo back no no back come già che si chiama quello back è giusto back che può piazzarsi metà scudo sul fucile per essere più resistente quello che ha l'abilità di fare l'headshot con l'ultimo colpo del caricatore dopo che tu hai sparato l'impossibile anche quello è vero sei così violento io volevo semplicemente entrare con la spara ma da lì non mi piace entrare e uno è andato c'è qualcuno qui sto io qua era un avversario qua niente c'è uno nello stanzione gli ho sparato un caricatore addosso ma non è morto un caricatore addosso non è morto ah ecco perchè avevo uno scudo uno dalle spalle ok sono io mike attenzione c'è uno qua guarda 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 spargli ma guarda che tu c'hai un culo che sono forte Ho vintato io quello Vedete, d'altronde, essere forti Anche Anche questo, saper essere errativi Al momento del bisogno Ho di ragione che c'era uno sopra Eh, lo so Sto pingando 99, non va per niente bene Ma vedendo i ping che avete voi È tutto nella norma 1800, ok, va bene 99, mentre voi pingate 1100 Fuzz pinga 82 82, straordinario ragazzi Questa è la prima volta Di soltelo sui 99 Guarda, Fuzz è un periodo che nonostante Va un mega, pinga meno Allora, prova a prendere No, mi prendo di nuovo Frost Secondo me Fuzz ha la fibra Allora ci mando gli screenshot di quando va un mega Perché magari, ne so Invece io prendo il castle che come oggetto speciale Può piazzare Barricate alle finestre alle porte Molto più resistenti Dipendete l'area e proteggete le bombe Io avrei detto che come oggetto speciale è l'unico di colore in tutto il gioco Ma anche quello è vero Ma c'è da dire una cosa In tutti i giochi tutti i neri li fanno col fisico Il fisico è tutto bello palestrato e pompato Ma quelli nascono già col fisico palestrato e pompato Comunque Questo ciccione si toglie Questa è la barricata che dicevo Noto che hanno ridotto anche il tempo in cui puoi mettere le barricate Ottima cosa perché prima ci mettevi veramente un sacco di tempo in più Prende un po' di bomboniere Prende un po' di bomboniere E uno mi sa che è sotto Ok rallentiamo i nostri movimenti per fare meno rumore possibile E tu stai là Faggio Gli ho appena detto alla mia ragazza di non fare rumore Di non parlarmi che devo ascoltare Mi ha fatto un suca della madonna Ottimo Fantastico Aia Scusa Eh tu non mi dici dove sei Eh io mi ero fermato un attimo al suca della madonna Sto sparato in un ginocchio Eh sì infatti ho visto la rotula che è partita via E' un drone quindi mi sta per arrivare qualcuno Il problema è che non so da dove Da sotto Beh non ho chiesto Ecco Lì sotto 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 Qua 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 che sotto E' uno sotto è entrato uno sotto Ma è che se vieni qua mi fai un favore perché ti riesco a rianimare Eccolo mi spara però l'avevi ucciso Non credo Quello sotto l'ho fatto Dietro 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 Mi rianimate? Eccolo calma Grazie Non c'è qua Allora di là Vedo assolutamente nulla Sta esplodendo il mondo Sotto Sotto Eh vatti ciccione Aia da dietro mi ha colpito qualcuno Ok l'hanno fatto il fuse che mi ha ucciso E' stata la scala E' stata la scala Mi stiamo facendo malissimo Il drone alleato ha trovato una bomba E' riuscito a trovarne una sola perché poi Nooo Direttamente sul jammer Brava Facciamo una descrizione alla fuzz Diceci Dicesi Jammer quella scatola marrone Tipo router con le antennine Che crea questo disturbo Ancora 10 secondi Che quello L'uomo è potente Che lo ha saluto Però non lo so C'è stata una scala Questo ci ha fregato E' entrato Come due scemi Appetit Si ha proprio la riscossa Vai Qui c'è stata una canzone Perchè 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 Aia Cambio visuale, ecco Bellissimo Ha sparato a casaccio e non ha preso nessuno Sì, difatti ho cambiato la visuale dal drone Che ancora sul jammer non si vedeva niente Tutto sforacchiato Per passare su quella di Paz Che sparava a Muzzo o alle mosche Guarda, guarda, guarda Guarda che culo, guarda Guardate la bravura, signori Questa è la prova inconfutabile È la prova inconfutabile Qualcuno mi ha ucciso, giustamente Era penultimo e diventato primo Come Achille Venne ucciso da una loffa sul tallone sinistro Ed Ettore, grazie a un sasso Non sai anche tu come hai fatto a ucciderlo C'è un fucile dell'800 colpi a millesimo di secondo Che parti da per terra a sparare e finisci dietro No, 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 questa è bravura Questa è bravura No, no, allora Fuzz corre Si gira per sparare a quell'ultimo Guardate, 6.000 punti Si, ho fatto E che ha fatto L'altro lo sparava A primuto il tasto Mentre si girava a casaccio Eccoci, però Con una caccia ai tronisti Adesso siamo Contro i bot E dobbiamo Che modalità Ah Disinnescare due bombe Abbiamo messo difficoltà realistico Per avere un po' più di sfida Io parto per mettere una carica a grappolo Chi c'è? Ahia Ecco Quello che è appena passato E' Darth Vader E io sono morto Fermo là Poi metto una carica qua E sfondo tutto Dai, non si può sfondare Un altro Darth Vader Ma scusa Come no? Eh, non me l'ha fatto sfondare Come sono a carica Ma non si è sfondato Ma si è taggato il muro Sono cieco Ora ci vedo Non vedo niente E' stato ciechissimo Quanto io distrutto qua I fili spinati Che non si sa mai Ricarichiamo Adesso A me non so in un posto di merda Ah Eh, Mike deve aspettare Perché c'è gente qua Arrivo di là Mike dove sei? Lontano, fratto Fermo qua Eh, sono tutti qua Ricarichiamo Ricarichiamo Pazzo, tocca a te Devi fare tutto tu Eh, ho notato Eh, io sono morto Eh, siamo tutti morti Ma figliattà Ho preso blitz Mentre si fa Hai preso il satellite di Google Ah, questo non lo so Madonna Ho sbagliato Dai Terence Andiamo giù Di te Finito Piedici Quattro Qua 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 C'è una granata Spostati Spostati Eh Spostati Ciccione Ma non ci credo Mi ha fatto Spostati Guardiamo Terence Mentre si è propinqua Di sfruggere le pared Rappole No, ma quanti cacchio ne sono? Mille Sto prendendo col filo spinato Io Hai visto quanti erano? Altri due Mi sa C'ho altri tre Metto uno scudo dietro uno scudo Promettiti Ti spalli allo scudo Con lo scudo Dall'altra parte No, mi han colpito Impossibile Guarda quanta gente Sei da solo Praticamente Ecco E' arrivato Direi che si può concludere qui Con il secondo fallimento Difficilissimo Sì Molto molto impegnativo Grazie a tutti per averci seguito Buonanotte E alla prossima